Signori si continua ormai questo mio gioiello che per me è diventato un gioiello e spero che faccia piacere anche a voi vedermi giocare appunto a questo titolo ma ho notato che fra quelli che mi seguono la cosa sta piacendo qualcuno ci sta pure giocando quindi sono contento dai che almeno ho diffuso un po' il verbo di questo gioco che era abbastanza di nicchia che è ancora perché io non sono nessuno di così grande da poter spargere la voce ad un gran numero di persone però se tanto mi da tanto magari chi l'ha conosciuto grazie a me lo dice a un amico e via dicendo un po' la voce si spande chiaramente bisogna essere amanti del retro gaming che è una delle mie rubriche che è diventata quasi il fulcro del mio canale twitch che come sempre trovate nella descrizione e ragazzi vi invito a seguire anche i social soprattutto facebook perché sono quelli dove do maggiormente notizie non solo legate al mondo dei videogiochi ma in generale sulla stream su serie tv mi sono incentrato anche sulle serie tv come vedete oggi sono con la luce giornaliera e non quella notturna serale perché il sabato streamo fino a orario di cena non ci sarò dopo cena direi di switchare finestra e far partire il gioco tra l'altro su telegram che è un altro diciamo social che uso il link lo trovate sul mio canale twitch c'è la sezione schedule e lì c'è il link di telegram l'ho messo lì perché su telegram è più facile dire se magari quel giorno ho un problema e non posso streamare eccetera e comunque su telegram mi hanno mandato le foto dello schermo del pc che stanno giocando a bv sector quindi bellissima questa cosa è un'altra cosa è un'altra cosa che ci svegliamo è è è è è è è Forse è meglio non farlo incazzare Ehi Vinnie ciao grazie ancora per l'host Vinnie hai visto sul telegram? Stanno già giocando a bb sector Come portare un gioco che si chiama come te? E' divertente dai è divertente Ma farò io Mi sa che quello lì ci sveglia comunque Come portare un gioco Come portare un gioco Bisogna salire lì se non sbaglio Oh mi sa che devo proprio ammazzare quello eh Come portare un gioco 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 In questo caso Come portare un gioco In questo caso Come portare un gioco Da clicca Vai Come portare un gioco Non Minchia ma è sfondato Che cazzo che cominciamo da qui Devo aumentare un po' la velocità Ah, non ce la faccio 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 Ah, vedi, dovevo essere io a liberarlo Perciò non moriva perché questo serve ai fini della... È una sorta di script Ah, bello avere questo com'è Grazie, frad Ah, non ce la faccio E dove è andato E dove è andato? C'è, lì in mezzo non ci passa Ah, non ce la faccio Ascolta, hai vissuto e visto cose troppo difficili da spiegare alla gente? Ti daranno del pazzo Credo anche ritenerti responsabile Vedi questa terra come un dono del destino Furta e placa la tua ira Come abbiamo fatto noi Ti dobbiamo ammazzare Può finire la tua vita miserabile Prendi, la tua vita misericordia, la tua iscriverà Sì, sì, sì. così i migliori sono stati selezionati e inviati su enormi vagoni per migliorare ancora da quella parte del terzo perimetro dogstone sta costruendo il suo potere nuovo progetto perimetro E lui? Sì. 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 La piattaforma è stata conquistata fortemente. Il treno sarà presto qui. È l'unica strada per il terzo perimetro. Sì. 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 La musica pure non è male. Ancora una cosa. Sei umano e non risulti simpatico. E siete tutti soldati. Partite tutti alla pari quando si combatte una guerra. Non c'è l'ultimo. Non sopra la terra. Non è neanche un gangstar degli anni Quaranta con l'arma. Per la primavera. Tutti scordare di dirlo. Mardin. Gangstar? Sì, sì, sì. Sì, sì. Un po' di velocità perché mi sa che serve. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Grazie. Raggiungi il locomotore dal tetto e aziona il controllo automatico della rutta. Wow. Grazie. Grazie. Anche dinamico è comunque come gioco a livello di ambientazioni che non è malvagio dai lo ricordavo un po' peggio deve essere sincero però è veramente figo. Un salvataggio così va da un sacco che non lo facciamo. Grazie. 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 Non ce l'abbiamo fatta il locomotore è nostro scendi nella sala motori e cambia le mappe delle rotte non abbiamo molto tempo. Grazie. 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 Mamma mia, ma quanta gente c'era su su scimmate tre. Grazie a tutti. 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 Devo trovare il tizio che ha... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il fantastico re leone, ragazzi. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Tutto a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Scusate a tutti. Scusate a tutti. 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 Qua ti invocano proprio a usare questa perchè sennò un macello per altri miei mesi Qua ti invocano? 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 Eccolo! Qua ti invocano? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vai in fondo al corridoio e attiva la ventilazione. Proverò a tenere chiusa la porta. 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 Molto d'altro va, Adels. No, non ho salvato. Proverò a tenere chiusa la porta. Chiudi la porta! Chiudi la porta! Vai in fondo al corridoio e attiva la ventilazione. Proverò a tenere chiusa la porta. Proverò a tenere chiusa la porta. e poi se da dove sono usciti i bossi umani a Ah? Oh, I got him out of my house. Grazie a tutti. 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 So che... a tutti. ... 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 ...... ... 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 Vai sopra il generatore mentre fisso il container alla piattaforma. L'esplorazione non me l'ha dato, ma che cacchio, è andato a posto da sotto. È tutto pronto. E adesso la parte più emozionante. Accendi il generatore. No, per favore, non io! Oh no! Per favore, no! È scendata la pandera. C'è la pandera. tutto da capo il cazzo l'avevi quasi fatta hai fallito ancora eh ma t'acchiappa sempre sta cazzo che fanno dobbiamo scappare mi sa perchè ma cosa come cazzo mi te c'è c'è un modo per levarsi sta roba da dosso porca cazzo adesso hai fallito ancora sei un perdente kurt un vero perdente e anche un tipo pericoloso forza da qua è tutto pronto l'avevi quasi fatta hai fallito ancora sei un perdente kurt un vero perdente e anche un tipo pericoloso tutti quelli che incontri muoiono così non va kurt faresti bene a sentirti in colpa in questo momento non 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 riesce a scendere, come... Non riesce a scendere, non riesce a scendere. Non riesce a scendere, non riesce a scendere. Non riesce a scendere, non riesce a scendere. Non riesce a scendere, non riesce a scendere, non riesce a scendere. Seu testi che potessi sono pesati. La squadra è rispondito dell'Espodetto. Possibile, non riesce a scendere, non riesce a scendere. E questo che cazzo da rimanere? Vedi, Kurt, voglio soltanto la pace per questa terra. Gli scienziati dovrebbero collaborare con me senza bisogno di quest'opera di persuasione. More dà ragione su un punto. Lavorare con gli umani è più difficile. What the fuck is this? Da dove l'avranno presa sta foto? Chissà quanto manca alla fine. Così faccio un salvataggio. Controllo, se manca tanto... Finisco qui. Finisco qui. Manca più o meno un'altra oretta e mezza. E vabbè dai, allora lo completo la prossima volta. Un'altra oretta manca, quindi... Lo completo la prossima volta. Non è l'ultimo gameplay, quindi ragazzi ci vediamo al prossimo. Grazie per la compagnia... O comunque per la compagnia... Grazie per aver guardato questo video sino alla fine. Io, come sembra, vi invito a farmi compagnia sul mio canale Twitch o sui miei social per discutere un po' del tutto. Grande Venlock, comunque. Scollo. Grazie. 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 Grazie.